allora giusto ti faccio un video veloce io avevo scelto droning sport che ha point name esting nording vedi questi sono i campi che interessano a me per le mie missioni se tu entri nel format manager e fai un new no lo chiami lo chiami roberto per esempio gli dai il separatore dei campi di da il formato l'estensione data csv txt gli dici se il file leader deve essere valorizzato cioè in testa ci devono stare questi campi e guarda qui sto scrollando questi sono tutti i campi che tu puoi aggiungere nel formato guarda quanti sono quindi è impossibile che tu non possa trovare il formato corretto perché quando li metti la latitudine e longitudine l'altitudine poi metri nord metri est elevation coordinate locali guarda quante ce ne sono distance offset elevation tower locata utc vrms chmr c'è di tutto di più tutto quello che serve quindi è impossibile che tu non possa interfacciarti al tuo software